Bene, siamo giunti al primo appuntamento della nuova ottava del mese di agosto, una settimana che anticipa la settimana principale, la settimana centrale, il ferro agosto, quindi più ci avviciniamo al ferro agosto e più si riduce l'operatività, si riduce la volatilità tra mercati, i movimenti nel mercato Forex appunto sono molto più bravi, infatti oggi oltre che lunedì, oltre che ci sono stati news macroeconomiche che hanno dato verve ai movimenti giornalieri, abbiamo assistito a movimenti abbastanza scarni. Per quanto riguarda invece i listini europei, la prima ottava si è chiusa al di sopra la parità con un DAX che chiude a meno 0,36%, un IBEX a più 0,15%, un CAC a più 0,03%, un FUZI Londra a più 0,25% e un FUZI MIB a più 0,43%. Oggi non ci sono state news rilevanti, quindi passiamo direttamente a quello che può succedere domani, martedì 8 agosto, anche domani abbiamo una seduta abbastanza scarna di news macroeconomiche, abbiamo solo all'euro 8 il saldo della bilancia commerciale della Germania di giugno e poi all'euro 16 abbiamo l'indice JOLTS sui nuovi lavori americani relativi sempre al mese di giugno. Bene, adesso andiamo subito a vedere quello che è successo per quanto riguarda l'euro-dollaro, quindi in particolare ci spostiamo però prima su quello che riguarda il future del dollar index, vedete praticamente abbiamo venerdì c'è stato questo movimento rialzista dovuto principalmente ai non-fan-per-all e poi oggi c'è stato un timido accenno da parte dei compratori che mano a mano si stanno riportando nuovamente nella zona dei massimi raggiunti nel close raggiunto appunto venerdì vediamo un attimo appunto se domani che cosa succede però vedete che la movimentazione è stata molto bassa, molto scarna. Per quanto riguarda in particolare l'euro-dollaro siamo all'interno, vedete siamo rimasti ingabbiati sopra al di 1.17793, questo si vince anche su quattro ore, quindi al 38,2 c'è stata questa falsa partenza rialzisti, il prezzo praticamente ha fatto una falsa rottura di 38,2 e ritornata al di sotto il 38,2. Ovviamente sotto 1.17793 vuol dire che con un close sotto 1.17793 c'è la possibilità di poter attivare nuove operazioni short. Però andiamo a vedere invece quello che sta succedendo alle nostre quattro operazioni di cui solo tre sono entrate al mercato, l'unica che ha riuscito ad entrare al mercato è Eurosterlina, cioè le operazioni che abbiamo inserito nel corso stamattina. mattina. Bene, allora andiamo a vedere Sterlina-Dollaro, che praticamente è stata l'ultima operazione che si è aggiunta alle altre due, che già stamattina subito sono entrate al mercato, che praticamente verso le 15.30, insomma, durante la seduta pomeridiana è entrata questa sell su Sterlina-Dollaro, eccola qua, vedete praticamente stiamo intorno alla parità fondamentalmente. Abbiamo un close sotto alla media mobile, abbiamo una bearish ABCD, abbiamo quest'altra movimentazione short, vedete a continuazione queste altre due movimentazioni, quindi alla fine la situazione molto probabilmente potrebbe avere anche un risvolto domani, un risvolto positivo per quanto riguarda la nostra operazione sell, anche perché adesso praticamente sono tutte, sono tutte, in questo momento siamo a circa 7 punti dal 3G point, dal prezzo di ingresso al mercato, in questo momento sono 6 punti. La movimentazione rimane short, tutti i miei indicatori sono ribassisti. Poi invece andiamo a vedere come si sta comportando invece AUD, dollaro australiano, dollaro americano, l'operazione che in pratica sempre sell, che è entrata a mercato stamattina esattamente alle 8.54, quindi a 5 minuti dall'apertura delle listine europee, in questo momento stiamo a 20 punti. Beh, non male come operazione, nonostante che la giornale non è quella che è, come abbiamo visto. Ho messo un primo target praticamente posizionato a 43 punti sulla media mobile a 21, perché ci potrebbe stare un rimbalzo, un ritorno quindi verso il movimento long e poi ne abbiamo un'altra a 0.78, un po' più sopra, di 0.78, 330 e precisamente a 90 punti. Questo è per quanto riguarda il dollaro AUDUSD, ovviamente ho messo di un ristretto ai target, perché il periodo è quello che è, quindi la situazione è un po' particolare, quindi praticamente preferisco prendere pezzetti del mercato e quindi non andare in un periodo un po' particolare per poter avere delle operazioni un po' di più lungo respiro. Andiamo a vedere invece che cosa è successo su un zilandolo, va bene, anche qua abbiamo un'operazione sell, in questo momento, vedete, abbiamo preso proprio in pieno l'operazione, stiamo adesso a 32 punti, abbiamo manca poco per poter raggiungere, quindi molto probabilmente questo sarà il primo target della nuova ottava e in questo momento, precisamente, stiamo a circa una decina di punti dal primo target, che l'ho posizionato un po' al di sopra 0.73, 361. Un secondo target invece è sopra 0.72, 254, vedete qui sopra a 160 punti, quindi vediamo un attimo quello che succede, poi vediamo appunto di poter fare opportuni, ovviamente nel caso in cui noi raggiungiamo il primo target, andremo a spostare per il secondo target lo stop loss a break even, quindi questa è la situazione, mentre invece andiamo a vedere euro yen, no, scusatemi, euro sterlina, quello che in questo momento non è partito, cioè l'unica pendente che non è partita è un 6 stop con prezzo di ingresso a 0.90, 125, ecco, praticamente, vedete, c'è stato questo movimento si è allontanato dal prezzo di ingresso, vedete, in questo momento il prezzo sta a 0.90, 499, quindi è salito, siamo all'interno di questo rettangolo, un attimo stasera che cosa succede per poi, quindi eventualmente poi domani decidere se cancellare oppure mantenere se stop. Bene, questa è la situazione in atto, al momento non ci sono altri setup di ingresso a mercato, ma mi riservo la facoltà per alcuni di ciò, sto controllando vari scenari, però voglio vedere stasera come chiudono alcune candete appunto per decidere se è il caso di poter inserire altre operazioni in macchina. Grazie mille per l'attenzione, quindi ci aggiorniamo direttamente domani mattino con la diretta live.